Musica 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 Allora ora abbiamo Prodotti molto brava Wow, c'è scritto sopra il tappo Ora Federico inizierà con la presentazione del piatto Quindi prepariamo i crostini Abbiamo abbrustolito il pane In questo caso abbiamo usato il panaccio Quindi un pane piuttosto grezzo Ora mettiamo sopra il lardo di colonnata Andremo a insaporire con il miele di castagno Che ha un sapore un po' particolare rispetto a tutti gli altri mieli E un po' più forte Dopodiché andremo a decorare con i gherigli di noce E i rametti di rosmarino Iniziamo a mettere la farina all'interno del contenito Sono 500 grammi di farina Dopodiché creeremo una fontana all'interno al centro E andremo ad inserire tutti gli altri ingredienti Che sono lo zucchero Due uova intere e due tuorli La scorza di limone Un pizzico di sale per aromatizzare ancora di più il sapore Olio e vintanto Allora iniziamo a impastare tutti gli ingredienti all'interno della nostra fontana Prima ci possiamo aiutare con una forchetta E poi andremo a lavorarla anche con le mani Ora lo mettiamo a riposare per circa un'oretta Dopodiché prendiamo la pasta La tiriamo abbastanza sottilmente In base alla forma che vogliamo Se volete venire Tra 5 minuti saranno pronti i primi cenci Friggiamo i cenci In abbondante olio Fino a quando non avranno un colore dorato Dopodiché li facciamo asciugare sulla carta assorbente E li colpargiamo con lo zucchero a velo Quindi potete venire e buttare Tagliatelle con una salsa ai ceci Allora iniziamo subito facendo rosolare l'aglio insieme allo smarino e l'olio nella padella Poi aggiungiamo i ceci Una parte, ora intanto li cuociamo tutti Poi una parte verranno frullati Mentre gli altri li lasceremo interi Nel frattempo mettiamo a sbollentare i pomodori per togliere la buccia Dopodiché li taglieremo E li aggiungeremo alla nostra salsa A posto dopo lo aggiungiamo Li frulliamo con il mixer a immersione Nel frattempo puliamo gli altri pomodori Deve venire un impasto abbastanza remoto Mettiamo sulla pentola con l'acqua Nel frattempo abbiamo pulito i pomodori Li abbiamo svuotati Ora li taglieremo e li aggiungeremo alla crema di ceci Aggiustiamo di sapore con sale e pepe E poi aggiungiamo i ceci che avevamo lasciato in piedi prima E poi aggiungiamo i ceci che avevamo in piedi prima E poi aggiungiamo i ceci che avevamo in piedi prima